Eccoci nella freschissima Monaco di Baviera e lui è Xiaomi 12T Pro con la super fotocamera da 200 megapixel Ce l'ho già in realtà da qualche giorno, vi dico come va Eccolo qua, il secondo top di gamma della stagione per Xiaomi Che in realtà non è proprio un top di gamma ma è un prodotto di fascia alta Appartiene alla schiera dei quasi top Ad esempio rispetto al 12 Pro ma anche alla ricarica wireless, la certificazione di resistenza d'acqua e qualche altra cosetta È comunque uno smartphone ben costruito che fin dai primi istanti comunica sicurezza e solidità Merito anche di un design che lo fa apparire più massiccio di quel che è Anche se in effetti è bello grande e pesa 205 grammi Sotto i polpastrelli vi coccola con forme sinuose e spigoli arrotondati Il retro è in Gorilla Glass 5 così come il fronte Mentre il frame, anche se molto ben mascherato, in realtà è in policarbonato, non in alluminio Sul fronte fa bella mostra un OLED da 6,67 pollici con risoluzione 2712x1220 Un po' più che il Full HD in entrambe le dimensioni Arriva a 120 Hz ma non è LTPO Il refresh rate viene gestito automaticamente tra 60 e 120 Hz con step intermedi a 30 e 90 Di questo display mi sono piaciute molto le opzioni di personalizzazione per tarare la calibrazione In base al proprio gusto e necessità E' un buon pannello anche se la luminosità di picco non è elevatissima Non superando i 900 nits dichiarati Un po' pochino considerando il posizionamento Inoltre il sensore di luminosità lavora in modo conservativo E ce ne accorgiamo soprattutto con la visualizzazione di contenuti HDR Che sono un po' deboli sulle alte luci Con i contenuti multimediali comunque andiamo bene Grazie ad un corposo e potente audio stereo curato da Arman Kardon Come da tradizione degli ultimi smartphone della casa Il vantaggio emerge poi nei giochi Dove una suite software che si chiama Xiaomi Game Turbo Ci aiuta a massimizzare le prestazioni Peraltro già piuttosto solide Grazie allo Snapdragon 8 Plus di prima generazione Allora parliamo un pochino di specs Perché lui da alcuni punti di vista è super Dagli altri invece mostra un pochino il fianco Ad esempio abbiamo detto del processore Che è l'ultimo nato di casa Snapdragon Però poi a livello di RAM Secondo me manca qualcosina nella versione base Che è da 8 GB E sappiamo che la MIUI è un po' pesantina Si ricarica velocissimo Con la ricarica 120 Watt cablata Con alimentatore fornito in confezione Però poi non ha la ricarica wireless Nel complesso comunque è un prodotto che funziona bene Ecco è affidabile per tutta la parte telefonica di connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 È sempre molto molto veloce in tutte le operazioni E il software supporta l'utente in tutte le necessità Qui abbiamo la MIUI 13 su base Android 12 Una combinazione che ormai è collaudata E non ho trovato grandissimi problemi o bug Giusto qualcosetta Però diciamo che nel complesso non ci si può lamentare Si va dalla personalizzazione alle funzioni di sicurezza Il tutto è curato con una grafica certosina E animazioni molto presenti E vi dirò di più Questo smartphone ha il sensore di prossimità fisico Che funziona ovviamente senza nessun problema Ora non posso darvi la certezza assoluta Però questo è il secondo Xiaomi che mi capita dopo il Poco M5 Con sensori di prossimità fisico Che quindi siano stati veramente abbandonati per sempre Quei sensori di prossimità virtuali Speriamo perché lui chiaramente funziona bene A proposito di user experience Vi posso dire che il feedback aptico è buono Mi ha convinto Non è super potente ma è sempre ben presente Tra l'altro con la MIUI 13 è stato molto portato In maniera più consistente all'interno del sistema Quindi ve ne accorgete di più E invece top il sensore di impronte digitali Posizionato sotto il display Velocissimo La batteria è sicuramente uno dei punti forti di questo smartphone 5000 mAh Infatti lui è anche bello spessotto e pesante Ma dura un'eternità Praticamente due giorni senza nessun problema E tutta un'altra storia rispetto per esempio Allo Xiaomi 12 Ed è quello che proprio lo differenzia in modo sostanziale Rispetto alla prima generazione Qua si fanno due giorni Almeno sei ore e mezza di display attivo Ottimo anche perché c'è lo Snapdragon 8 Plus Che sappiamo grazie al suo processo produttivo A 4 nanometri e TSMC Consuma molto meno rispetto allo Snapdragon 8 Versione base Arriviamo a parlare di fotocamere Perché è chiaro che questo 200 megapixel Scritto qua dietro è un richiamo stuzzicante Oltre alla principale che è un sensore Samsung HP1 e stabilizzazione ottica Abbiamo una ultra wide da 8 megapixel E una macro da 2 megapixel Frontamente invece 20 megapixel È un po' stiracchiata la dotazione Perché è vero che ci sono questi 200 megapixel Però la ultra wide da 8 La macro da 2 Si poteva fare qualcosa in più Le foto vengono bene anche a 200 megapixel Se vengono realizzate con ottime condizioni di illuminazione Quando ci sono tanti elementi nell'inquadratura Il risultato è notevolissimo In termini di dettaglio Grazie alla risoluzione elevata È anche possibile scattare in 2x Digitale senza perdita di qualità E viene effettuato un ritaglio della parte centrale del sensore Chiaramente se la luce scende è impensabile scattare a piena risoluzione Ma non è un problema Perché interviene il pixel binning Con un raggruppamento di 16 pixel E un risultato di un grosso pixel virtuale di 2.56 micrometri Con poca luce la qualità rimane piuttosto buona Anche se qui emerge sempre un po' meno raffinatezza Nella pulizia dell'immagine rispetto ad altri smartphone Xiaomi qui fa ancora un po' di fatica Ma nel complesso devo dire che sono rimasto soddisfatto Invece qualche parola in più di critica la devo dare per la ultra wide Che di giorno è ok Vi dà un punto di vista diverso Però di notte è pessima Ma più che altro davvero si poteva fare qualcosa in più a livello di sensore È un passo indietro rispetto alla serie 12 E lo stesso discorso vale anche per la macro di 2 megapixel Si sente che manca un teleobiettivo O comunque un sensore un pochetto più interessante Bene invece i selfie mi hanno stupito positivamente Con e senza effetto ritratto Chiudo infine con i video che giudico positivamente Si arriva addirittura all'8K Che è davvero tanto tanto dettagliato Ma al meglio lo dà in 4K a 30 fps Che sono ben stabilizzati Ok l'autofocus sotto questo punto di vista è uno smartphone convincente Arriviamo ai prezzi 849 euro per la versione 8256 Si passa ad 899 per la versione 12256 Ma per la fase iniziale del lancio avrete uno sconto a 749 euro per la versione 8256 Insomma è un buon prodotto che non ha quelle sciccherie dei top di gamma Ma che l'utilizzo di tutti i giorni sicuramente non vi deluderà Certo è che il prezzo è obiettivamente alto Anche perché più o meno le stesse cifre ormai si riesce a trovare lo Xiaomi 12 Pro Che è tutta un'altra cosa sia dal punto di vista costruttivo che dal punto di vista fotografico Addirittura spendendo meno si riesce a trovare lo Xiaomi 12 Che però è un po' diverso da questo prodotto Soprattutto per quanto riguarda le dimensioni e poi di conseguenza anche l'autonomia Quindi lì non è solo una questione di prezzo ma c'è proprio una questione di scelta O vi piace uno o vi piace l'altro Difficile che possiate essere indecisi È il classico prodotto da tenere d'occhio Se dovesse scendere di prezzo se ci saranno altre offerte interessanti Oltre a quella di lancio da parte di Xiaomi Prima della fine dell'anno e nei mesi a seguire Beh sicuramente lui è un prodotto molto concreto Che vada al sodo ma che quotidianamente ha tutto ciò che serve Per darvi un'ottima esperienza di utilizzo Bene direi che per questo video è tutto Come sempre se vi è piaciuto lasciate un bel like E iscrivetevi al nostro canale Io sono Matteo noi ci vediamo ad un prossimo video Ciao